Grazie per la linea Titti. Noi siamo al Partenio Lombardi, non a caso abbiamo scelto questo luogo per darvi le notizie dal campo di oggi. Alle mie spalle c'è il murales dedicato ad Adriano Lombardi, dall'altro ci sono rappresentati i ragazzi della Curva Sud, perché sono stati loro di fatto a risvegliare l'entusiasmo dopo la bellissima trasferta di Trastevere. Vogliamo raccontarvi l'atmosfera che si respira intorno alla squadra in questi giorni. Davvero il vento è cambiato e probabilmente nelle prossime quattro giornate vedremo un campionato diverso. Buccaro dovrà tenere alta la concentrazione dei biancoverdi, lo dovrà fare anche un po' rimodulando la squadra, perché per la prossima partita interna contro il Budoni mancheranno due pedine davvero importanti, tutte e due in difesa. Morero e Parisi infatti risulteranno squalificati. Il tecnico dunque dovrà adattare un po' la sua squadra a queste mancanze, soprattutto a quella di Parisi che è stato praticamente sempre in campo, se non per una precedente squalifica avuta nel corso di questo campionato. Si rinuncerà, gioco forza, ad una pedina under, bisognerà recuperarla nel campo. Probabilmente si potrà utilizzare Betti al suo posto e Deddy a destra, oppure l'alternativa è quella di rinunciare ad una pedina over a centro campo, uno tra Matute e Di Paolo Antonio e far giocare ad esempio Buono, oppure la soluzione in dolore potrebbe essere quella di schierare Mentana in avanti facendolo giocare al posto di Alfagheme o di Sforzini, facendo riposare uno dei due. Questo è per quel che riguarda il campo. Bucaro già dal pomeriggio comincerà ad organizzare la squadra che scenderà in campo contro il Budoni. Intanto la città già si muove perché i tifosi si stanno mobilitando per riempire la curva sud e non solo in massa. Dunque la squadra è pronta allo sprint finale. Dal partenio è tutto, Titti ti restituisco la linea. Titti ti restituisco la linea.